Ciao a tutti e benvenuti a questo video di Magus Lotus, oggi vi porto la nostra prediction, o comunque perlomeno il nostro commento, essere proprio sinceri sinceri, alla banlist che era già stata programmata tanto tempo fa per quest'unidì, quindi se non conto male, perché non c'è il calendario sotto mano, l'undici marzo. Perchè adesso, secondo poi la review che ha fatto la Wizard l'ultima volta del banlist system, ogni anno c'è poi una big banlist in media più o meno verso marzo e così via, poi hanno comunque cambiato tutto il programma, ma avevamo già fatto questo video. Prima di cominciare e parlarne poi nel dettaglio, vi invito a lasciare mi piace, commentare, iscrivervi, che è molto importante per noi, ma soprattutto anche ad abbonarvi se volete sostenereci più direttamente, ci sono tier gratuite su Twitch, con Prime, o addirittura qua anche delle robe che costano meno di un caffè al mese, perché è 99 centesimi, ma il caffè vi sfido a trovarlo, tranne che in posti in cui io sinceramente non lo berrei. Quindi, poi vi ricordo anche il nostro sponsor del canale, fantasiastore.it, uno dei negozi più forniti e soprattutto uno dei più rapidi nello spedire in Italia, vi fanno arrivare la roba davvero velocissimissimissimi e con noi avete il codice sconto Lotus 5, 5% di sconto sui prodotti non già scontati. Quindi dai, cominciamo con il video. Allora, ovviamente parlerò poi di tutti i formati, ma come forse anche da titolo, o comunque come potete intuire se seguite un po' Magic o abbastanza da vicino, parleremo poi principalmente del Modern, ma vedremo adesso perché. Allora, il primo formato che vi presento ovviamente è Standard. Standard al momento non ha problematiche, in realtà il vero formato Standard non è tanto un equilibrio del meta, perché il meta è molto equilibrato, abbiamo rappresentazioni di tutti i mazzi, tranne i combo, ma ci può stare, perché è difficile buildare combo in Standard, e in media quando esce troppo rotto e va nerfato, quindi è difficile che ci sia un combo che possa rimanere vivo dentro, ecco. Però comunque abbiamo una buona rappresentazione di tutto. Tutti i mazzi hanno delle share decenti, e spero è quello un po' più avanti, però niente di particolarmente grave. Il vero formato Standard non è tanto la questione banlist, ma la questione è vivo, troviamo un modo per ravvivarlo, e questa è la vera sfida che ha la wizard davanti a sé. Poi, moda lo lascio per dopo, perché è quello più spicy, poi guardate il video sul fondo. E poi Pioneer. Pioneer, allora, ha già ricevuto il 4 dicembre una banlist molto, molto, molto consistente, e non ha bisogno di ulteriori modifiche. Posso comprendere alcune persone che magari possono dire, ma Isma, cosa ne pensi di Hidden Strings e cosa ne pensi di Raktos Vampire? Raktos Vampire è uno strat, una qualcosa che è stato portato come anti-meta, e adesso comunque, visto che ha vinto, la gente lo sta usando. È destinato a rimanere? Non è detto. È un mazzo che è imbattibile? No. Perché comunque si basa su fare Plainswalker, che ti butta il vampiro super mega ciccione, grosso, però non è una strategia che vince on the spot, non è fare show and tell Grisenbrand, non è fare sneak attack Emrakul. Non avete vinto on the spot. Alcuni matchup sì, ed è anche giusto così, è anche giusto che sia così. Altri matchup invece no, anzi l'altro dice vabbè hai fatto il tuo vampiro, sti gran cazzi. Per quanto riguarda Hidden Strings posso capire un po' di più, perché è un mazzo che, soprattutto grazie anche all'introduzione di Arch-Treech Charm, è molto molto migliorato. È difficile interagirci perché si basa sulle terre, ma in più la terra che utilizza per scombare è una terra che ha pure Ex-Proof. Però è un mazzo molto molto lento ragazzi. Ha bisogno di ingranare e ha bisogno o di carte, una lista classica non le gioca, però ci siamo capiti, di barare sulla Trigger e non sacrificare le due terre sul Lotus Field, perché è una terra che entra tappata, da tre mana, ma di sacrificarci due terre con una Trigger. O devi avere due terre da sacrificare, appunto, non è che ci sono vie di mezzo. E quindi non è facile perché devi avere o Trick, chiamiamolo così, Anti-Trigger più Lotus Field, quindi anche altro mana, o avere le due terre. E quindi capite che questo crea comunque una lentezza, è un formato in cui ci sono dei mazzi che vanno super spinti. Boros Convok, per farvi capire, quindi, o anche un Soul che ti mena abbastanza velocemente. E quindi non è detto che ti basti la velocità di esecuzione del tuo game plan, anche se è molto molto solido. Quindi, in definitiva, questo formato al momento non va toccato. Pauper, lo tocco anche qua alla veloce, perché così poi possiamo passare al Modena, che è quello che ci interessa per davvero in questo video. Adesso è bilanciato. Hanno fatto un ottimo nerf per quanto riguarda Monorosso. Se guardate le percentuali di meta, che qua è un po' misto online, misto real, c'è ancora Finite e Bar, che sono belle alte, ma sono calate praticamente a 12%, prima erano dei mazzi da 20. Considerate che, in realtà, in real, anche se fa un po' ridere come costruzione della frase, sono un po' diverse le percentuali. Le leghe online spalsano tanto questi numeri, perché Bar e Affinity sono mazzi ottimi per grindare, se uno vuole spammare le leghe, ma non sono magari ottimali in real o in meta open di Pauper. Quindi questa è una cosa che va sempre considerata, lo diciamo in ogni video. Per il resto, però, si sono davvero fortissimi, cioè, non c'è poco da dire, raga, non... Però, ora il meta è bilanciato, soprattutto ci sono tante risposte efficienti, non per forza relegate alla sideboard. Monorosso, in realtà, non cambia troppo, in realtà, la situazione, però, più che altro, è che senza avere quel drop a 1 super qualitativo, che era la Monastery, adesso solo più il piano, o ti botto, sei in versione barn, o ti ammazzo con, magari, la combo, chiamiamola così, Cool Dota più Bushwalker, che però, di nuovo, sapendo che c'è e come arginarla, uno può giocarci anche, ripeto, con carte main deckabili, che sono già giocate anche per altri matchup, e giocare. Quindi, in questo momento, sinceramente, io non mi sento di dire che il Pauper si è bilanciato, anzi, è molto, molto bello. L'unica cosa che uno può dire sempre del Pauper, come sempre, è che è un formato un po' noiosetto, nel senso che è molto, molto grindy, molto, molto piccoli vantaggi, ma questa è una cosa intrinseca del formato, non la puoi cambiare, anzi, è una cosa che, magari, molte persone ci giocano per quel motivo, è l'anima del formato, come dire, in Legacy si fanno le cose rotte, con basta, branza, e così via, quindi, ecco qua. Legacy, vabbè, giusto ve l'ho citato, lì non faranno niente. Per ora, passiamo al Modern, finalmente, oh, Isma, finalmente parli di quello che mi interessa. Modern, Modern, qua mi aspetto che potrebbero esserci dei cambi. Allora, il cambio che hanno fatto con Fury nella direzione giusta, ma non so se hanno ottenuto quello che volevano davvero, almeno, non al 100%, spieghiamoci meglio. Il loro obiettivo col Bandi Fury era nel fare i mazzi Fury, perché avevano un grosso problema di non far entrare i mazzi Creatura. Questo, però, è fallito miseramente, perché i mazzi a Creaturine, comunque, hanno un grosso nemico, Yagmoth. Yagmoth Combo, che poi, comunque, è anche migliorato, perché senza Fury, che lo distruggeva, gli dava molto fastidio, è ancora di più, più forte, ancora più presente. Quindi, non è cambiato quella cosa. Cioè, per dire, i mazzi umani, i elfi, i tritoni, continuano a morire perché tanto c'è Yagmoth nel formato. Se tu becchi i mazzi Yagmoth, non puoi fare niente. Anzi, gli dai solo un target per fare i segnalini numero uno di Yagmoth e comunque vincere. Però, l'obiettivo numero uno di nerfare Rakdo Scam, ma non renderlo completamente inutile, è stato ampiamente un successo. Perché Scam, vedete, che adesso, tra l'altro, non è più nella prima linea, ma, se mettiamo 30 giorni, magari se mettiamo 14, sì, però, comunque, vedete... No, in realtà, vedete, rimane sempre lì. Anzi, cala ancora. Comunque, Scam è rimasto nel meta, è comunque un tiro 1, è comunque giocato, tiro 1, tiro 2, al limite, però giocato forte, buono, insomma, tutto quello che volete. Cosa mi aspetto che possano nerfare? Potrebbero nerfare qualche cascante. Perché? Allora, i mazzi tier 1, molto indiscussi in questo periodo, i più soldi sono Footfalls e Living End. Allora, il fatto che Footfalls, quindi Rai, no, per intenderci, e Living End siano tier 1, è comunque un momento. Nel senso che ci sono sempre stati presenti, anche prima, magari erano più tier 2, alcuni momenti, tier 1.5, insomma, fluttuano, ma come tutto in questo formato. Però, sono sempre stati presenti, punto, cioè, ci sono sempre stati. Non tanto perché sono tier 1 adesso, perché Rai, no, adesso è molto, 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 molto giocato, è sotto, diciamo, l'occhio di tutti, ma, in generale, perché una carta molto qualitativa dei mazzi cascata è Violent Heart Bust. Violent Heart Bust è una cascata a instant. Questa carta, di per sé, non sarebbe pensata per farti fare dei rinoceronti 4-4 a instant, così, quindi fare 2-4-4 con flash. Non sarebbe pensata per farti fare Living End appunto a instant. Non sarebbe pensata per farti fare un casino di spell a instant. E questo rende questi mazzi molto forti, perché possono interagire con la loro sinergia rotta, con la loro combo, in base a quello che mazzo stiamo guardando, a instant. E quindi fregarti che interagiscono sia nel tuo, sia nel proprio. Quindi ti fanno la classica cosa, Violent Heart Bust nel tuo, tu mi country la spell che casco, ovviamente, perché quello è la spell che è importante, tocca a me, stappo e faccio quella sorcery e quindi ti attacco su due lati e tu sei morto. Ho un'alternativa, altra cosa molto molto forte che rende Violent Heart Bust ancora più forte è che io interagisco due volte nel tuo. Io faccio Violent Heart Bust per fare la spell forte, Living End, i rinoceronti, quella che è, e poi ti faccio sopra anche la, dove è finita? La Force of Negation, perché siamo nel tuo turno e quindi la portengo, portengo pure la spell. Questo crea dei pattern che effettivamente possono essere problematici anche sul lungo termine, perché man mano che stamperanno delle carte o cambiano la meccanica scascata o Violent Heart Bust diventa sempre più forte e quindi questo crea un po' dei problemi, ecco, perché poi magari adesso sono i rinoceronti, i Living End, più in là magari è qualcos'altro e quindi posso vedere un'istituzione di nerf, di cascata tramite il blocco di quella carta. Altra carta appunto che può essere tenuta d'occhio è in generale Yagmoth, però Yagmoth il primo è che non so che toccare Yagmoth, per questo non vi, non ve l'ho detto prima, perché Yagmoth cosa gli vuoi toccare? Yagmoth in sé, però mi sembra una cavolata incredibile. Che cosa gli tocchi? È un mazzo corde creature e quindi non ha senso, cioè da questo mazzo qua secondo me non gli toccheranno nulla e verrà nerfato dal punto di vista che faranno uscire delle creature più resilienti e più adatte a poter sopravvivere in un meta in cui c'è questo mazzo qua o comunque mazzi simili a questo. Quindi sinceramente da questo deck non sento che toccheranno nulla. Poi ripeto raga non è che ho la sfera di cristallo, però secondo me è così. Parliamo però anche di un'altra cosa spicy del modern. Il modern si può anche parlare di sbann. Allora vi vado solo a prendere le carte che posso pensare possono ricevere qualche tocchino cioè lo sbann. Le altre no. Poi magari farò un video a parte del perché e per come ogni carta e cosa ne penso di ogni carta se vi può interessare. Però adesso vado solo a prendere quelle che penso che possano avere una possibilità. Fiori? No scherzo. Allora delle carte che possono avere una concreta possibilità sono Green Sun Zenith che allora il problema principale di Zenith è che è troppo efficiente. Permette anche di fare ramp turno 1 su giochi ladriade che non è male. anche se non è la giocata più forte di sto mondo ma è un po' insomma molto molto troppo efficiente. Può anche andare a potenziare Yagmoth in questo periodo qua perché c'è Yagmoth tier 1 ma non può prendere Yagmoth che è il pezzo centrale. Può al massimo prendere Gris che comunque male non è. Però questa è una carta che può secondo me avere un minimo di potenzialità perché sì è estremamente efficiente ma anche estremamente fair. Voi non barate il costo della creatura vogliete pagare anzi la creatura uno in più per cui pagate un verde più l'X che deve il costo di mano della creatura. Nel senso se costa 3 pagate 3 più 1 4 quindi state pagando la creatura effettivamente 4 e non barate anche dal punto di vista che non la fate a Instant la fate a Sorcery quindi non va a cambiare neanche la velocità in cui fate le creature. L'altro vostro problema può essere magari i mazzi che possono giocare il primival Titan perché così possono avere più copie di primival Titan oltre che avere una toolbox di creature magari Silvio Bullet però ripeto sono giocate che a me sembrano fair cioè tu devi comunque in media magari tappare out per fare una roba del genere un formato in cui Spell Pierce è sempre dietro l'angolo chip counter chip risposta quindi è abbastanza safe e secondo me può vedere la luce del giorno. Poi altra carta che secondo me può tornare ma non lo faranno adesso però me ne parlo e magari ponder ma il problema di ponder è che non è ancora il momento perché uno può ragionare questa ve la faccio solo come preview cioè preview come prevision per il futuro che è tra come mi pare la previsione non è il momento perché anche si è parlato con preordain quindi dovranno fare uno o l'altro e hanno fatto preordain è ancora troppo presto per avere sia uno che l'altro nel formato potrebbe creare situazioni magari spiacevoli con alcuni mazzi anche se il power level è simile a quello di preordain e uno può dire ma perché uno si e l'altro no perché il problema è avere sia uno che l'altro quindi il power level c'è ma non questo momento ve ne ho parlato ripeto solo perché magari uno potrebbe chiedere ma c'è preordain no perché non mettiamo anche ponder poi l'altra carta che ha grosse potenzialità splinter twin splinter twin allora la wizard stessa ha messo tramite l'rd che lo stanno tenendo d'occhio hanno sentito la volontà della community perché questa è una carta che la gente rivorrebbe in modern perché la adora i propri giocatori di modern questa carta la vogliono cioè tipo potete mettere una il vostro desiderio qua che sia uomo donna insomma quello che vi pare quindi calendario di x perché noi non discriminiamo nessuno quello che vi piace vi piace basta che sia legale e quindi il vostro oggetto romantico diciamo così il desiderio e qua splinter twin il giocatore di modern sceglierà la splinter twin quindi detto questo però la wizard ha anche detto che è preoccupata perché effettivamente va a creare un effetto che a tutti i mazzi crea una tassa può interagire turno 4 istante in maniera efficiente con twin sì no se non lo fai sei morto perché twin ti scomba e quindi questo secondo me è quello che lo blocca sarà la volta buona che lo sbannano non lo so però anche questa va citata perché giustamente la sta tenendo d'occhio quindi parliamone e poi l'ultima carta che secondo me molti non si stanno calcolando ma la wizard sì è un mezzavo agite la agite hanno già sbannato un pezzo che era la stoneforge mystic non è più come una volta il modern l'avete notato pure voi prima effettivamente era un grosso problema avere gitte nel formato perché diventava una gara a chi la faceva per primo e l'attivava perché io così bloccavo i tuoi le tue creature impedivo a te di avere una gitte attiva quindi in un formato come era quello di prima con tanti jant tanti mazzi che grindavano aveva senso tenerla bloccata la gitte perché scusate sto morendo perché il primo che la pescava impediva l'altro ed era una carta top grinder se non c'era modo di bloccarla tranne che spaccarla direttamente quindi con la gun command aprut decay e così via però se tu non ce l'avevi io a meno qualche attivazione la faceva facevo vantaggio ora il formato è totalmente rapido veloce con interazioni cheap tantissime risposte costo 1 push prismatic che può essere a 1 anoli hit bolt volendo path to exile anche se non si gioca più c'è talmente dismember c'è talmente tantissima roba tutta concentrata in base a che mazzo giochi talmente razioni forti talmente attacchi che fare tappo 2 gioco questo tappo 2 equip ci devo pure attaccare e fare danno crea troppi if troppi if da giocare questa carta in 3-4 per dire ah ah io sono il primo che la pesco e vinco l'unica cosa bella è che può essere presa con la stoneforge quindi va a dare un giochino in più ai mazzi stoneforge che però comunque se vedete non ci sono mazzi stoneforge che sono top tier si è provato a giocare adesso un po' una specie di uv mid range con con la stoneforge appunto un stoneforge blade con appunto la lei un paio di equipaggiamenti e il clock nuovo di di murders a carlo mano però ragazzi è un tier 3-4 cioè insomma si sta giochicchiando non ha fatto niente di che ecco quindi anche questa secondo me è una carta che ha fortissime probabilità di essere sbannata non se ne sta parlando perché in realtà secondo me al momento sulla gitte si parla in due modi o c'è ancora chi pensa che è troppo forte che secondo me sbaglia però ripeto un parere ci sta è giusto anche il loro parere anche loro daranno i loro ragionamenti perché secondo loro è troppo forte e a chi ne frega niente e quindi la wizard in questo momento dice vabbè che me frega non è una carta proprio nei radar e quindi secondo me è quello il problema principale allora queste sono le nostre prediction commenti quello che volete sulla banlist che ci sarà lunedì fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate quali carte vorreste quale insomma secondo voi hanno possibilità che magari non abbiamo citato e noi ci vediamo al prossimo video come è stato ciao ciao e fate i bravi ciao